Ecco, sotto l'albero, assieme agli auguri di Natale, la Gida TV Insegnanti vi invita a provare la nuova app di Gida TV per essere sempre più informati sul mondo della scuola. Cari web spettatori, quest'anno la Gida TV ha superato il milione di minuti guardati grazie a noi, ma non ci fermiamo qui. Abbiamo aggiunto ai numerosi servizi sulla scuola l'appuntamento settimanale con le news di Irene Giuseppina. Un augurio speciale a tutti voi, che sia un Natale sereno con l'auspicio di rivederci nel nostro consueto appuntamento settimanale con le news dal mondo della scuola e della cultura. Auguri da Irene Anastasi. Web spettatori, con lo stesso entusiasmo con il quale vi abbiamo aggiornato con le news dal mondo della scuola e della cultura, voglio augurarvi buon Natale e felice anno nuovo. Che sia un anno pieno di amore, pace ed armonia. Auguri da Giuseppina Gagliardo. E anche l'app che vi permetterà di seguirci facilmente, anche dei vostri smartphone. La redazione, la regia e tutti quelli che hanno collaborato con noi vi ringraziano per la fiducia e vi augurano di trascorrere un sereno Natale. Tanti, tanti auguri a tutti. E ora l'app di Mauro Mundo. Arrivederci. All'interno dell'applicazione è presente un menu con sette sezioni. La sezione video permetterà di visualizzare i filmati realizzati dalla Gilda TV suddivisi per categorie. Per cambiare categoria basterà selezionare quella di interesse o semplicemente scorrere la pagina con il dito. Sarà inoltre possibile, tramite la barra di ricerca, trovare più facilmente i video di vostro interesse. Selezionando un video, si potrà decidere di salvarlo tra i propri preferiti, per una successiva consultazione. Si potrà condividere tramite messaggio, email o sui social network più diffusi. Oppure si potrà riprodurre con un semplice tocco. Nella sezione Preferiti, verranno visualizzati i video precedentemente salvati per conservare un archivio personalizzato dei filmati di vostro interesse. Dalla sezione Sito Internet potrete consultare il sito internet di Gilda TV che contiene tutti i collegamenti relativi alla Gilda Insegnanti e alle sedi di consulenza in tutta Italia. Le sezioni Contatti e About vi saranno utili per poter richiedere informazioni relative ai video e per lasciare una recensione dell'applicazione sull'eStore. Nella descrizione del video troverete il link per scaricare l'applicazione.